Via, 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 vai Dio, vai Dio, vai Dio, vai Dio, guarda se la vede, guarda riprendere per il centro, vediamo se la vede, si la vista, il centro del lago, ha detto che non la recuperavamo, brava Dio, ha recuperato Dio, grande cagnolina, se la lasciavo qua in mezzo i miei comandanti non mi davano più la possibilità, ciao, sì che voleva l'anatra, ma come i miei amici si alzano alle 3 del mattino, bravissima la Dea, fa gli complimenti la Dea, ma sì che voleva l'anatra, il signor Dea, vieni Dea dai, brava Dea, brava, 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 dai che andiamo, dai che ci aiuta a portarla fino a casa, dai chiamala, 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 vai Dio, fai una carezza che andiamo, missione compiuta, in azione finita ok apriamo una due signori e signori questa mattina il pranzo è servito ciao ciao